Marco, un giovane molto colto e intelligente, commenta un video e pone una domanda. A me sembra interessante vedere cosa scrive e poi provare a dargli una risposta per quanto possibile, perché la risposta è impossibile di per sé. Nella dinamica del non dialogo con Enrico, invece, mi sembra davvero perfetto per rappresentare l'incomunicabilità. Alla fine, sulle grandi questioni filosofiche, è quanto è negabile che la versione dell'arcisista di Forlì si rifaccia ad una grande tradizione letteraria. Tra i milioni di cose che potrei citare, scelgo Conrad. Sì, l'egoismo va bene, l'altruismo va bene e la fedeltà alla natura sarebbe il meglio se solo potessimo sbarazzarci della coscienza. A rendere tragica la razza umana non è l'essere vittima della natura, ma l'esserne conscia. Il nostro rifugio è nella stupidità. Non c'è moralità, né sapere, né sapienza. C'è soltanto la coscienza di noi stessi a mandarsi avanti in un mondo che è sempre e soltanto apparenza vana e fluttuante. Alcuni si aggrappano alla vita, altri scelgono di non farlo. In questo preciso istante, chissà quante persone che soffrono di problemi legati alla malattia fisica o mentale vorrebbero poter porre fine a tutto. Non a tutti è dato questo privilegio. Quando la domanda è ma vivere vale la pena o no, scegliamo la posizione più ottimista, potrei dire mainstream, borghese, e lo facciamo forse anche per evitare di affrontare la questione. La vera domanda non è se vivere va bene, ma che cos'è vivere? Nessuno di noi ha la risposta. In realtà non facciamo altro che rifugire la domanda. Enrico, che come l'ho conosciuto io non soffriva di un reale disagio esistenziale, era più che altro, come tanti in questo paese, un ragazzo intelligente, un po' frustrato dal nulla, che ogni giorno vedeva intorno a lui. Mi pare che abbia trovato il suo rifugio. Questa è la questione che pone in questo intervento Marco. E la domanda è che cos'è vivere? Come lui giustamente dice, ovviamente non c'è una risposta a cosa sia il vivere. Allora, per tentare non una risposta, ma una mia personale risposta, che quindi riguarda solo la mia visione della vita, del mondo, insomma. Una, una parte, non si può dire tutto, cose del Zè, ma soltanto uno spunto, uno spunto di riflessione, parte forse da quei versi di Cosimodo, insomma. No. Ognuno sta solo nel cuore della Terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. Ognuno sta solo. La solitudine, insomma, no? Che questo stato esistenziale che pur bisogna accettare, quel quale bisogna convivere. Nel cuore della Terra, è il centro del mondo. Si sente il centro del mondo, vorrebbe esserlo, ma poi alla fine non lo è. Trafitto da un raggio di sole. Il raggio di sole, no? Quel lampo di vita che ognuno di noi potrebbe esprimere, no? Quel senso, il sole, che illumita da luce a calore vita. Ma che trafigge, che quando c'è può anche far male. Può essere qualcosa di insostenibile, che acceca. Insomma, non è una cosa che avviene semplicemente e che fa star bene senza richiedere un prezzo. E dopo tutto questo, è subito sera. C'è una fine che bisogna accettare. Una sera che viene e che non possiamo rimuovere. Qual è il nostro problema esistenziale? Insomma, quello come individui, perché poi ci viviamo sempre come individui, no? Quello di essere parte di un tutto a cui possiamo pensare di essere necessari, ma del quale non siamo mai indispensabili. Si può anche fare a meno di noi, di noi come individui. L'insieme degli individui, la comunità umana, può anche fare a meno di noi. E noi, forse, con più difficoltà, riusciamo a fare a meno della comunità umana. Ogni tanto mi rappresento questa cosa come se fossimo una cellula, una cellula dell'epidermide, della pelle, la quale, insieme con miliardi di altre cellule, serve a costituire la nostra pelle, appunto, la nostra cute epidermide. E serve, perché la pelle ha una sua funzione molto importante per separare, come dire, quello che abbiamo dentro, quello che noi, noi individui, del mondo esterno, no? È la parte con cui il mondo esterno comunica con il nostro interno, insomma. Stabilisce il limite tra le due zone, esterno e interno. Ma la pelle si ricambia continuamente. Le cellule della pelle nascono, vivono, muoiono rapidamente, si ricambiano e vengono sostituite da altre. Non è la singola cellula della pelle che perdiamo senza accorgersene a essere importante, ma l'insieme di queste cellule, ma l'insieme di queste cellule è costituito da singole cellule. Singole cellule che, però, prendono anche rapporto tra di loro, che funzionano perché riescono a mettersi in rapporto l'una con l'altra e a creare un tessuto. L'altra immagine è quella del fatto che dobbiamo renderci conto che passiamo, si passa, che quindi siamo nella vita in un momento di passaggio, ma che nel tempo in cui siamo presenti alla vita, senza che si rendiamo conto di come diventiamo presenti alla vita, insomma, del momento in cui nasciamo, siamo presenti e viviamo nel momento in cui riusciamo a creare dei legami. e quindi la nostra vita prende senso nei legami o attraverso i legami che stabiliamo gli uni con gli altri e quando siamo un insieme gli uni con gli altri attraverso i legami che questo insieme riesce a prendere con il tutto, con il resto dell'esistente. soltanto se prendiamo contatto e interagiamo con gli altri altri nostri simili e noi con il tutto in questa interazione prendiamo senso la nostra vita a motivo di essere perché poi alla fine il senso diventa quello di rendere vitale ed eterno l'esistente cioè che l'insieme di ciò che esiste si manifesti nel modo migliore possibile e significa anche che possa utilizzare al meglio le potenzialità offerte dalla dalla sua struttura cioè dal sistema che lo compone dalle le leggi fisico-chimiche che lo governano e a cui necessariamente questo insieme deve ubbidire per il tutto vivere o meglio esistere significa tradurre in atto le potenzialità di cui è costituito e utilizzare quindi al meglio ciò che ha a disposizione per i singoli individui e soprattutto per gli uomini che sono quelli più capaci di trasformare poi attraverso la tecnica la loro intelligenza l'abilità insomma il linguaggio per i singoli individui soprattutto per gli umani sentirsi parte di questo tutto e anche essere consapevoli della loro caducità e sostituibilità ma nello stesso tempo essere consapevoli della loro unicità nel momento breve del loro esistere prendere atto di questa contraddizione unicità ma anche appartenenza e necessità di legami e di interazioni c'è sempre bisogno di conciliare cose apparentemente inconciliabili unicità con appartenenza con necessità con molteplicità essere come tutti gli altri che sono simili a noi ma anche sentirci unici essere infiniti come il tutto di cui si fa parte ma anche essere transitori come individui essere posseduti da un istinto di sopravvivenza ma anche avere dentro di noi un istinto di morte che è quello che è necessario perché la specie si rinnovi e perché nel rinnovarsi sia sempre appunto nuova adattata a un ambiente che cambia quindi pronti al cambiamento e il cambiamento poi si si verifica nella specie con la morte degli individui insomma e con la rinascita di altri individui lasciare il posto una sintesi continua di contraddizioni tra loro apparentemente inconciliabili e di qui la difficoltà di ogni pensiero semplice di qui la necessità di conciliare la consapevolezza che la realtà è complessa ma anche la necessità di trovare poi una sintesi concettuale individuale soggettiva semplice che ci permetta non l'assoluta comprensione ma la consapevolezza del nostro agire nel mondo che ci dia sicurezza nel nostro essere al mondo ed agire nel mondo un'azione che trova sempre poi un limite quasi insormontabile nella grande inerzia del tutto nei tempi lunghi con cui la realtà più grande di noi si trasforma la necessità di accettare la dialettica le contraddizioni che sono insite in questa dimensione per non accettare queste contraddizioni allora ci si affida alla dipendenza da un trascendente e allora diventiamo meri esecutori di un dettato trasmesso dall'alto e al quale ci adeguiamo senza volerlo magari comprendere no il mistero no smettiamo la nostra responsabilità individuale che si misura soltanto con l'obbedienza siamo responsabili soltanto della nostra obbedienza a leggi che sentiamo imposte dall'alto e in questo modo riduciamo l'angoscia che ogni scelta comporta e anche il rischio che ogni scelta comporta al quale siamo sottoposti allora per me la chiave psicanalitica è quella che consente la miglior comprensione la necessità del desiderio di trovare come individui una tensione verso il mondo una tensione continua che spinga a realizzare il meglio del destino verso il quale siamo naturalmente portati insomma un qualcosa che ci spinge al mondo e che ha delle potenzialità e che è innato dentro noi nel momento in cui lasciamo è come essere delle cellule staminali tutti potenti no le quali poi sono in grado di differenziarsi a seconda di ciò con cui vengono in contatto e man mano che evolvono riescano poi a tradurre al meglio la loro potenzialità quando l'incontro con l'ambiente diventa quello ottimale e per l'uomo questo ambiente è fatto dagli altri uomini quindi l'io si struttura attraverso gli incontri che si fanno come come l'io e poi come l'individuo è capace di utilizzare questi incontri che si fanno incontri buoni naturalmente e questi incontri spesso sono quelli che sono in grado di stimolare o di far nascere il desiderio incontri che mostrano non soltanto a parole ma con l'esempio che la vita si può viverla al meglio perché la vediamo vissuta al meglio da altri e il meglio cos'è è ciò che ti apre al mondo che rende la vita per quello che ti dà degna di essere vissuta cioè che ti fa sentire parte di un tutto e che ti fa sentire capace di interagire con gli altri e di trarre gratificazioni da questa interazione che ti fa prendere coscienza del tempo che hai a disposizione proprio per riuscire ad utilizzarlo al meglio e che ti fa capire che puoi lasciare una tua eredità a chi ti seguirà e che ti fa sentire necessario proprio per quello che tu hai imparato ad essere e a dare attraverso questi incontri però nello stesso tempo ti fa sentire anche sostituibile ti fa sentire infinito e finito infinito nel momento in cui sei parte di un mondo più grande di te è finito perché come individuo sai che dovrai finire per lasciare il posto ad altri che ti seguiranno ma che magari potranno usufruire dell'eredità che avranno ricevuto da te e quindi per noi uomini l'impossibilità di una vita ritirata in noi stessi ma una vita che deve essere nel rapporto dinamico di dare e avere la possibilità di passare dall'uno al due per poter fare il passo successivo dal due all'umanità la consapevolezza che dipendiamo dai legami ma anche della potenziale sofferenza che è insita nei legami una sofferenza però che non ci deve spaventare più di tanto e non ci deve portare alla rinuncia la necessità del prendersi cura non solo come atto altruistico ma come un nostro bisogno esistenziale perché noi siamo ed esistiamo perché qualcuno si è preso cura di noi e ci sentiamo vivi solo quando siamo desiderati e utili e necessari all'altro ecco allora che ci sono tante chiavi ognuna con la propria serratura per comprendere la complessità del vivere ma anche per cercare di ridurre questa complessità a una parziale semplicità almeno limitatamente dominabile e queste chiavi sono quella dell'arte della poesia della letteratura della filosofia ma anche soprattutto quella che ci viene dalla psicanalisi e io trovo che molte delle intuizioni di Lacan per me sono illuminanti nel capire come ci comportiamo e come come individui insomma reagiamo alla difficoltà di di esistere e alla difficoltà di farsi un'idea di cosa sia il vivere o